Regione Liguria mette in campo risorse per salvaguardare lo sport, in particolare quello giovanile che sta venendo piegato dall'emergenza sanitaria. Bambini e ragazzi sono la fascia di popolazione che subisce più duramente le restrizioni e con più possibilità di finire in quarantena nonostante siano quelli meno a rischio dal punto di vista sanitario. Così molti rinunciano lo sport e le attività pomeridiane nel tentativo di ridurre i rischi di contagio e isolamento già presenti a scuola. Regione, per incentivare la frequentazione, ha introdotto Dote Sport, un sostegno per le famiglie in disagio economico per pagare lo sport dei figli dai 5 ai 17 anni. Dote Sport è sostanzialmente un voucher che viene riconosciuto alle famiglie che abbiano un tetto di reddito massimo di 7 mila euro, che abbiano figli minori e che in qualche modo gli aiuterebbe a far frequentare i ragazzi le palestre, le scuole di sport pagando l'iscrizione e pagando l'intero corso. Per sostenere le società invece c'è il fondo garanzie sostenuto da Filse che si occupa dell'erogazione di liquidità in garanzia appunto per chi ha bisogno di finanziamenti. Il bando garanzie dà la possibilità appunto alle società sportive di poter aprire un mutuo, ottenere un finanziamento da un minimo di 25 mila euro e questa è una novità perché quindi si possono affrontare anche delle cifre un pochino più basse, si parla di impianti sportivi magari appunto che abbiano necessità di essere ripristinati senza grandi eccessi nel nel valore, quindi un minimo di 25 mila euro ad un basso di 400 mila euro con la garanzia interamente della regione.